Prima di continuare la nostra lezione sugli web services, in particolar modo sull'architettura REST, confronto tra Super REST e poi l'architettura REST, vorrei fare un piccolo fondo spiegando cosa sono le API e il rapporto, la relazione che esiste tra web services e dpi. Quindi sarà un video piuttosto breve, ma vedremo di esemplificare quanto segue API. Allora, qual è la differenza tra un web services e un API? API anzitutto sta per Application Programming Interface. Qua abbiamo una serie di immagini che ho scaricato dal web e che rappresentano effettivamente un API. Qua abbiamo, in questa immagine, che rappresenta diversi client, utenti finali, che attraverso un'applicazione inviano una richiesta, a che cosa? In realtà è un'API. L'API interroga un web server, che a sua volta attinge dei dati e delle informazioni in un database, e poi ritorna agli utenti una risposta. Questa è un'altra immagine che rappresenta un po' il funzionamento dell'API. Anche qua abbiamo la rappresentazione dei nostri utenti, client, in particolar modo una web app nel browser, che interroga l'API, chiede qualcosa a un web server, il web server preleva, attinge alle informazioni in un database, le elabora e le ritorna. Quindi, entrambe queste immagini presentano l'API come un componente software che si trova tra il client e il server, o in questo caso l'web server. Possiamo quindi definire un API come un componente software che consente a due applicazioni, il client e il server, l'applicazione client e l'applicazione server, non correlate di comunicare tra di loro. Il risultato di questa comunicazione è ottenere una migliore performance, quindi una maggiore funzionalità. Un'API è costituita da regole e funzioni standardizzate che determinano, specificano esattamente quali dati possono essere prelevati o consultati dal client oppure modificati all'interno di un'applicazione, come avviene il processo. Quando, al termine di questa playlist, arriveremo anche noi a sviluppare un API REST, vedremo esattamente, capiremo meglio cosa significa, perché saremo noi, nel momento in cui andremo a progettare il nostro API, che decideremo quali dati potranno essere consultati, prelevati o modificati dal client. Quindi, alla domanda a cosa serve un API, la risposta giusta è un API serve a fare integrare software diversi, esporre dati interni, quindi il server, il web server, l'applicazione serve, espone dei dati, quelli che lei decide di voler esporre, all'esterno, quindi a tutti i client che ne possono far richiesta, facilita lo sviluppo e l'innovazione e migliora l'esperienza utente, perché ovviamente l'utente ha possibilità di andare a consultare, interagire con i dati. Esistono poi differenti tipi di API, aperte, private e interne, e qua abbiamo un'altra immagine che rappresenta diversi tipi di API. In realtà questo non è fondamentale per noi, è solo per capire un attimo come le possiamo classificare. Possiamo infatti andare a fare una prima classifica delle API in base all'ambito degli utenti e al loro costo. Alcune API sono aperte, cosa vuol dire? Che sono gratis, gratuite e disponibili al pubblico, senza restrizioni. Altre sono private, cioè sono accessibili solo agli sviluppatori, in particolar modo a sviluppatori approvati, e molto spesso hanno un certo prezzo, hanno un costo. In alternativa, un'azienda può creare al proprio interno delle API interne, ovviamente gratuite, gratis, che servono per connettere i propri sistemi. Sarà interessante andare a vedere anche come funzionano le API private, quando magari, non lo escludo, all'interno di questa playlist interagiremo con le API di OpenAI. Quindi, alla domanda, quali sono i vantaggi e gli svantaggi dei diversi tipi di API? Allora, le API aperte hanno il vantaggio di essere accessibili e diffuse, ma ovviamente hanno lo svantaggio di essere meno sicure e personalizzabili. Le API private hanno il vantaggio di essere più sicure e personalizzabili, ma hanno lo svantaggio di essere meno accessibili e diffuse, e di avere anche un costo, ovviamente. Le API interne hanno il vantaggio di essere ottimizzate per l'esigenza dell'azienda, ma hanno lo svantaggio di essere limitate al suo contesto. Vediamo ora, scendiamo sempre più nel dettaglio, caratteristiche dell'API, progetto, formato e accessibilità. Allora, le caratteristiche di ogni API dipendono quindi da come è stata progettata l'API, da qual è il formato che utilizza e dal livello di accesso. Ora, il progetto si riferisce all'architettura che segue un'API per comunicare. Vedremo noi in particolare l'architettura REST, ma esiste anche il protocollo SOP. Un'altra caratteristica è il formato, cioè il linguaggio che usa l'API per codificare i dati e comunicare i dati, trasferire i dati, che può essere o JSON o XML, e l'accessibilità, cioè il modo in cui un'API gestisce le richieste e, nel caso in cui si tratta di API privata, le autorizzazioni. Quindi parleremo di chiave API piuttosto che di token. Quindi alla domanda quali sono i vantaggi e gli svantaggi dei diversi progetti, formati e accessibilità delle API, possiamo cominciare a rispondere nel seguente modo. I progetti REST sono più semplici, flessibili e scalabili, ma meno sicuri e standardizzati. I progetti SOP sono più sicuri, standardizzati e affidabili, ma più complessi, rigidi e pesanti. Il formato JSON è più leggero, facile e popolare, ma meno strutturato e valido. Il formato XML è più strutturato, valido e universale, ma più pesante, difficile e verboso. L'accessibilità con chiave API è più semplice, rapida e diffusa, ma meno sicura e personalizzabile. L'accessibilità con token è più sicura, personalizzabile e moderna, ma più complessa, lenta e meno diffusa e più rara. Passiamo ora a dare una definizione degli web services. Li abbiamo già visti, però riprendiamoli. Un web services, vediamo in questa immagine, è un servizio web, una risorsa disponibile su internet e consente a un'applicazione client di comunicare con un'applicazione server. Consente quindi le interoperabilità tra due applicazioni diverse. È utile perché fornisce funzionalità che altre applicazioni possono utilizzare. Quindi, il servizio web è un servizio che fornisce delle funzionalità che il client può utilizzare. Ad esempio, il servizio che consiste nell'elaborazione dei pagamenti. Il servizio che fornisce l'accesso e l'archiviazione del database. I web services vengono implementati attraverso internet, a mezzo del protocollo SOAP oppure dell'architettura REST. Quindi alla domanda, a cosa serve un servizio web? Risposta, un servizio web serve a facilitare l'interoperabilità tra software diversi, a fornire un mezzo standard di comunicazione, a consentire il riuso delle funzioni e a migliorare la modularità e l'agilità. Quali sono i tipi di servizi web? Sì, servizi web. SOAP. REST e le chiamate, diciamo, a procedura remota. SOAP, che sta per Simple Object Access Protocol, appunto un protocollo si basa sull'XML, ha un formato molto rigoroso e predefinito. REST, Representational State Transfer, non è un protocollo, è uno stile architettorale che usa i verbi HTTP, tutti i verbi HTTP, per trasferire dati in vari formati. e poi abbiamo le RPC, le Remote Procedure Course, che possono essere in XML o JSON, e usano effettivamente XML e JSON come formati di dati. abbiamo visto nel video precedente in cosa consistono. È praticamente un client che fa una chiamata a una funzione che si trova su un server. domanda quali sono i vantaggi e gli svantaggi dei diversi tipi di servizi web? Allora, i servizi web SOAP sono più sicuri, standardizzati e affidabili, ma più complessi, rigidi e pesanti. i servizi web REST sono più semplici, flessibili e scalabili, ma meno sicuri e standardizzati. Le abbiamo già dette prima queste cose, ma ripetite a Juvent. I servizi XML, JSON, RPC, chiamate di procedura remota, hanno il vantaggio di essere più leggere, facili e popolari, ma meno strutturate e valide. Ora, arriviamo al dunque. La differenza tra API e servizi web. Perché? A questo punto, diciamo ad oggi, diciamo che a questo punto, insomma, non sembrerebbe molto, molto chiara. Questa immagine rappresenta esattamente quelli che sono gli web services, un insieme di web services, un insieme di web API, e dove si trova il punto comune tra gli uni e le altre. Allora, sebbene le API, i servizi web, possono entrambi facilitare il trasferimento di dati tra applicazioni su internet, non sono la stessa cosa? La distinzione fondamentale è che i servizi web sono tutte API, cioè tutti i servizi web sono API, ma non tutte le API sono servizi web. La differenza principale è che i servizi web richiedono una rete per interagire, e questa comunicazione in rete viene solitamente ottenuta tramite il protocollo SOPO, l'architettura E, il resto. Servizio web, web services, anche nel termine, nella definizione, prevede proprio l'utilizzo di una rete. Le API, invece, possono funzionare anche offline, al di fuori della rete. Ad esempio, due applicazioni sullo stesso computer possono integrarsi tramite API e si può comunque trasferire i dati senza una rete. Quindi, le API possono usare diversi progetti formati e accessibilità, mentre i servizi web sono in realtà più limitati e specifici. Quindi, alla domanda, qual è la differenza principale tra API e servizi web, la risposta deve essere la differenza principale che i servizi web sono sotto tipo di API, che usa una rete e ha requisiti specifici, mentre le API sono più generali e flessibili. Quindi, concludiamo con alcuni esempi di API e servizi web. Twitter API, Best Free Weather API, PayPal, che è una REST API, Google Places API. Qua c'è una brevissima descrizione, ma la cosa importante è quali sono i vantaggi di poter usare API e servizi web come questi sopra? Beh, avere accesso a dati e funzioni utili e aggiornate, integrare diverse applicazioni e piattaforme, pensate solo a integrare la modalità di pagamento di PayPal, piuttosto che una mappa di Google Maps all'interno del nostro sito web, migliorare l'esperienza utente e la soddisfazione, sviluppare nuove soluzioni e innovazioni. Grazie a tutti. Grazie a tutti.